Un procedimento amministrativo poco trasparente e addirittura ombre per infausti e presunti effetti sulla salute pubblica. E così armato di preoccupazioni e PEC, il consigliere comunale ed ex sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, scrive al primo cittadino, assessori e dirigente, e chiede al comune di fare un passo indietro sulla contestata installazione di due nuovi ripetitori della compagnia telefonica Iliad, come da progetto destinati a trovare dimora sui tetti di due abitazioni private del centro. Ferretti si muove su un campo già minato, al netto di una protesta avviata da mesi da un comitato, eppure da un ricorso al TAR promosso sempre dai cittadini, che di quelle antenne in via Morgagni e in via Mogadiscio proprio non ne vogliono sapere. Per il consigliere il procedimento è macchiato da presunte falle in materia di urbanistica eppure amministrativa, a fronte di un regolamento comunale che appare in contrasto con il progetto presentato dalla compagnia. Il comune e più in generale il consiglio comunale la scorsa estate decise fondamentalmente di non decidere, scatenando l'ira dei residenti che armati di striscioni e preoccupazioni si sono sempre opposti all'installazione delle due antenne.